Salve a tutti ragazzi, io sono sempre Aaron Blaze e vi do il benvenuto al video sullo snapshot 3 di CV41A Snapshot che si è fatto attendere ben due settimane e che adesso andiamo subito a vedere Tadam, ecco qui la portata principale di questo snapshot, la novità principale I vetri colorati Allora, come molti di voi sapranno, i vetri colorati erano già stati inseriti nella versione di Minecraft 2.0 Cioè la versione del pesce d'aprile, quindi del primo di aprile Ma non sono poi stati inseriti nel gioco ufficiale perché presentavano dei bug molto seri Un bug, fra l'altro, ve l'ho anche mostrato in un mio precedente video Ed era il bug che attraverso questi vetri colorati non si vedeva l'acqua Invece ora, come potete vedere, l'acqua si vede perfettamente Quindi il bug è stato risolto, i vetri inseriti Allora, prima di vederli da vicino Guardiamo il crafting e le caratteristiche di questo nuovo tipo di vetro Allora, prima di tutto, la sabbia rossa, se viene messa nella fornace, dà sempre il vetro classico Così come la sabbia normale, quindi non è cambiato nulla in questo caso Il vetro colorato invece si crafterà mettendo questi blocchi con questa disposizione Vale a dire, 8 blocchi di vetro normale e al centro un pezzettino, un'unità di colorante In questo caso faccio il vetro bianco e il vetro ciano con il colorante ciano Da notare che il vetro bianco non è come il vetro trasparente Ma sono due cose diverse, come potete notare E come vi faccio vedere anche qui Vedete, il vetro bianco è così e il vetro trasparente è così Giusto? Sì Anche se sembra un po' grigino, in realtà è bianco e trasparente Ok, detto ciò vi mostro in breve il crafting Quindi, 8 blocchi tutti attorno e un blocco di colorante, un'unità di colorante al centro Otteniamo 8 unità di vetro colorato In questo caso il ciano, molto figo il ciano Sta bene, si abbina bene con questi colori chiari anche Vabbè, distruggiamolo che non ci serve Guardiamo in quest'altra ceste Abbiamo i pannelli di vetro colorati Che come la loro controparte di vetro trasparente, quindi pannelli classici Si craftano utilizzando 6 pezzi di vetro Vetro colorato E vi darà il pannello di vetro dello stesso colore Vi darà 6 unità Quindi proviamo anche questo Mettiamo 6 pezzi E ci dà 6 unità di pannelli di vetro Ok, adesso dove cazzo li ho messi? Eccoli qua Tadan Pannello di vetro Da notare già che abbiamo aperto il menu Due bug che non ho capito La chest che viene visualizzata così Se ne prendiamo in mano una Vedete nel... Nell'inventario Anche in questo caso c'ha questo quadrato... Questo rombo nero Che non so se è tipo la texture dell'interno Comunque sia un bug che verrà sicuramente risolto E il personaggio che viene visualizzato di spalle Guardatelo Che cosa strana Io sono perfettamente a posto Se mi vedete sono... Sono dritto Non ho la schiena al contrario E' semplicemente un bug dell'inventario Allora, visto questo Proseguiamo Mi serviranno anche questi E vi mostro quindi tutti i vari colori di vetro Abbiamo dal vetro bianco Arancione Fuc... No, magenta Questo è blu Chiaro Quindi azzurro Giallo Verde lime Insomma tutti i colori Tutti i 16 colori Eccoli qui Fighissimo quello nero fra l'altro Più il vetro classico Che è quello trasparente Da notare che anche Il vetro trasparente Così come il ghiaccio Che anche esso è trasparente Vengono visualizzati correttamente Se posti dietro questi vetri colorati Anche questo faceva parte del famoso bug Di cui vi parlavo prima E adesso vedete che è tutto risolto Per cui riusciamo a vedere per esempio La linea del mare attraverso il ghiaccio E attraverso il vetro colorato Quindi il bug è risolto Perfettamente E brava Mojang in questo caso E qui vediamo i pannelli di vetro Pannelli di vetro Anche essi di tutti i colori Nero, rosso Verde, normale Marroni Insomma ci sono tutti i colori E che dire Hanno un aspetto un po' bizzarro Perché se ci muoviamo Vediamo tipo Questo contorno Troppo evidente Anche dall'altra parte Non mi piace tanto Si vede un po' troppo lo spessore Secondo me E vabbè Punti di vista Dettagli Se vogliamo Ma penso che La texture sarà Sarà questa Non verrà Non verrà più cambiata E Boh Fa un po' Un effetto strano Però insomma Va bene anche così Finalmente abbiamo I nostri Fottutissimi I vetri colorati Che abbiamo desiderato Per tantissimo tempo E Non vedo l'ora Anch'io Di utilizzarli In qualche costruzione Strafiga Ora perché ho le uova Per provare A visualizzare Anche dei mob Alle spalle del vetro E vedere se è tutto a posto Quindi Tanto anche Gli zombie litigheranno Con i villager E come possiamo vedere Anche i mob Vengono visualizzati Alla perfezione Quindi bug Totalmente risolti E Il vetro funziona Alla perfezione Ora Detto dei vetri colorati In questo snapshot Sono state introdotte Molte novità tecniche Che riguardano Il lato Multiplayer Di minecraft Quindi il lato server E anche Minecraft Reams O Reams Non so come Si pronuncia Diamine Ma comunque sia Riguarda il multiplayer Ora Tutte queste novità tecniche Io non sono in grado Di Di cercarle tutte Di Di spiegarvele Ma penso che Neanche vi Vi interessino Più di tanto Per cui Non starò qui A elencarle nel video Anche perché Non le ho Non le ho proprio cercate Quindi non saprei che dire Se Se emergerà qualche novità Tecnica interessante Magari riparerò Facendo una seconda parte Del video O Introducendolo nel video Del prossimo Snapshot Mentre per quanto riguarda Le novità Tangibili Importanti Vere e proprie Abbiamo semplicemente Questi nuovi blocchi Questi nuovi 32 blocchi Cioè i vetri colorati E i pannelli di vetro colorato Altra novità Piccolissima È Al super secret Secret settings Che Sembra Essere cambiato Un'altra volta Perché sono stati inseriti Dei suoni nuovi Come vi faccio Ascoltare ora Ok direi che Basta così Ah minchia Sono rimasto con la visuale Da fattone Oltretutto Vabbè Comunque sia Dicevo Sono stati Introdotti Dei suoni Diversi Dei suoni nuovi Quindi abbiamo sentito versi di animali Scroci d'acqua Che cosa nasconderà Questa opzione super segreta Non lo so ancora E Tutti questi suoni strani Aumentano Diciamo L'alone di mistero Che c'è attorno a sta cosa Vedremo col tempo Vedremo Questa Era la novità Più grossa Dello snapshot Le novità tecniche Ripeto Non ve le ho dette Perché Sono praticamente Introvabili Quindi Se il video vi è piaciuto Lasciatemi un bel like Commentate Aggiungetelo ai preferiti E condividetelo Io vi saluto Ci vediamo Per un prossimo video Sul canale E al prossimo video Sugli snapshot Quindi un saluto Da Aaron Blaze E alla prossima Ciao a tutti Ciao a tutti